Un dramma liturgico. Cosa succede? Nel tempo questi troppi sacri cominciano ad essere alterati da manomissioni legati al testo, inserendo frasi anche volgari, grottesche, tanto è vero che il Papa comincia ad allontanarli prima dalla Chiesa e li permette nei sagrati, poi comunque il clero non ufficia più e lentamente si abbandonano finché sarà il Papa Innocenzo III nel 1207 ad ordinare che i troppi sacri siano messi al bando definitivamente. Arriviamo a San Francesco. Io spero che voi non crediate che sia stato San Francesco fare il primo preseppio, perché non è vero. San Francesco cosa ha fatto? Nel 1222 era stato in Terra Santa, è stato per parecchi mesi in Terra Santa e nella notte di Natale ha assistito alla grande liturgia natalizia che si celebrava a Betelemme. E' rimasto totalmente colpito in negativo perché sfarsi, ori, tutta questa cerimonia pomposa che ha pensato ma Cristo è proprio nato così, è nato in una grotta d'argilla che non esisteva più perché era tutta ricoperta di lamine d'oro, è nato tra un bue e un asino, è nato in povertà. Voglio provare a capire l'umiliazione e la sofferenza che la Madonna ha avuto nel partorire un bambino e essere messo invece che in una culla e in una mangiatoia. Come? Facendo celebrare una messa a Greccio nel 1223 mettendo un bue e un asino ha chiamato i pastori, ha chiamato i suoi frati, i contadini, i signori della zona lui non era sacerdote perché era un diacono quindi ha letto il Vangelo e ha commentato poi con l'omelia la tradizione dice che si è apparso bimbo vabbè, crediamoci, non è dogma di fede questo episodio non si è mai più ripetuto nei pochi anni di vita di San Francesco quindi la mia opinione è che la sua idea non era quella di inventare il presepio e non l'ha inventato ma appunto celebrare e capire la sofferenza lo sintetizza molto bene Stefanucci questo è l'altare della messa a Greccio Stefanucci nel 44 diceva questo mi sia lecito fare alcune considerazioni sono portato a credere che la scena rievocata da San Francesco a Greccio rimanga un fatto a sé e che ebbe ben poca influenza sullo sviluppo del presepio plastico l'importanza di San Francesco a Greccio è stata quella di voler avvicinare a tutti i credenti il Vangelo ma avvicinarlo in modo sensibile e materiale staccandosi dall'ormai tradizione liturgica dei troppi sacri dell'ufficio un pastorim perché questi costituivano più un'influenza liturgica eseguita tra lo sfarzo dei sacri paramenti mentre a Greccio si è voluto rievocare la vera nascita di Gesù nel presepio di Betlemme ma allora chi ha realizzato il primo presepio? non lo sappiamo anche questo sappiamo qual è il presepio più antico ma non sappiamo se è il primo un presepio più antico che ci è pervenuto quello di Arnolfo da Cambio che ha conservato Santa Maria Maggiore a Roma alcuni addirittura attribuiscono un presepio l'igno e il policromo conservato nel complesso Stefaniano Bologna come precedente non è datato non lo sappiamo comunque sappiamo che dalla fine del 200 nascono i presepi con le figure a tutto tondo tutti gli artisti contribuiscono in larga misura alla rievocazione della nascita di Cristo tutti i più grandi scultori pittori vogliono elaborare ciascuno a proprio modo questa scena e qui vi porto alcuni esempi il campo della pittura questo è il ghirlandaio questo è Correggio questo non ricordo questo è un pittore fiammingo questo è Caravaggio questo è Gerardo delle Notti questo è Giorgio Latour insomma vedete un po' oppure anche come sculture quello di sinistra è quello Stefaniano a Bologna quello di destra è il presepio arnolfiano di Santa Maria Maggiore dove tra l'altro in Santa Maria Maggiore si venerano le reliquie della Santa Culla la tradizione vuole che la regina Elena madre dell'imperatore Costantino le abbia portate da Betlemme attraverso Costantinopoli fino a Roma Santa Maria Maggiore ha tante coincidenze legate al presepio il presepio più antico quindi Arnolfo da Cambio la cappella del presepio voluto da Papa Liberio nel III secolo le assicelle della Natività queste cinque assicelle di legno che è la tradizione a far risalire la culla non sono senz'altro è una chiesa prediletta più di tutte le altre qui altri esempi quello di sinistra è un presepio in legno dorato del maestro di Troniano del 1400 quello di destra il presepio più antico di tutta la Lombardia è dotato 1480 ed è firmato Bon Giovanni De Lupis è conservato a rivolta d'Adda questo è un altro presepio a Modena sono conservati due bellissimi presepi nella Duomo nella cripta uno è il presepio Begarelli che è questo in basso a destra ed è in terracotta non colorata quell'altro invece è di Guido Mazzoni siamo tra la fine del 400 e l'inizio del 500 che viene comunemente definito il presepio della pappa perché vedete la levatrice che ha in mano un cucchiaio sta suffiando cercando di raffreddare il cibo da dare a Gesù qui siamo a Bargello quindi Giovanni della Robbia a Palermo con il Gaggini ormai in questo periodo tutti i monasteri tutte le strutture religiose i conventi le cattedrali hanno il presepio mai però mai in questo periodo fino al 500 nelle case il presepio nelle case neanche nelle case dei nobili non compare ancora il presepio il presepio è un'esclusiva degli ordini religiosi il concetto del presepio familiare viene introdotto solo dopo il 1550 grazie a Gaetano Datiene che per noi presepisti è più importante di San Francesco viene poco considerato ma effettivamente è la persona che ha dato più impulso questo è San Teostorgio in alto dove è conservato questo basso rilievo cioè alto rilievo in marmo di Carrara a San Teostorgio si conserva anche quello che rimane della reliquia che conteneva i resti dei remagi sapete Barbarossa le ha rubate e le ha portate a Colonia quello di destra l'abbiamo visto anche l'ultimo convegno Stefano da Puttignano questo bellissimo è a Rubino nella chiesa di San Giuseppe Federico Brandani siamo nel 1600 qui siamo a Lecce è il Duomo di Lecce anche qui Pietra Leccese 1600 quindi abbiamo detto da 200 la natività muta i suoi caratteri con inserimento di drammatici narrativi spesso commoventi dal 400 la natività passa da umanistica quindi delegata a San Francesco a semplice ed idilliaca pensate che Marco Polo nel milione dedica un capitolo intero dedicato ai magi pochi lo sanno cosa dice in Persia la città che si è chiamata Sabba l'attuale Sava sud ovest di Teheran dalla quale si partirono i tre re che andarono ad adorare a Cristo quando nacque in quella città e sono soppelliti i tre magi in una bella sepoltura sono vi ancora tutti interi con i capelli l'uno ebbe nome Baldassar l'altro Melchiore e l'altro Gaspar e quando furono ove Dio era nato lo minore andò in primo a vederlo e parvegli di sua forma di suo tempo e poscia smezano e poscia il maggiore e a ciascuno per sé parve di sua forma e di sua età e riportando ciascuno quello che avevano veduto molti si meravigliarono e pensarono ad andare tutti insieme andarono insieme a tutti parve quello che era cioè fanciullo di tredici giorni allora offersero loro l'oro l'incenso la mirra il fanciullo prese tutto e lo fanciullo donò agli tre re un bossolo chiuso e gli re si mossero per tornare in loro contrada parallelamente a tutti gli artisti anche gli ordini religiosi contribuiscono alla diffusione del tema della natività pensate i francescani i dominicani i carmelitani fino ad arrivare all'episodio di San Gaetano guardate che bello se si vuole conoscere la diffusione di questi artistici e commoventi preseppi che nelle feste natalizie del Signore si espongono l'autore di questi preseppi fu Gaetano quando abitava a Napoli il santo si sentì stimolato a costruire un preseppio materiale visibile a tutti per rinnovare ogni anno il ricordo del grande privilegio che gli aveva che gli aveva ottenuto a Roma e per rendere più vive vive nel suo spirito le fiamme dell'amore divino che poi intendeva diffondere nel cuore degli altri quanto fatto da Gaetano meritò tanto gradimento da parte della città di Napoli che negli anni seguenti la si vide introdurre anche in altre chiese e passando poi di luogo in luogo oggi di questo uso si pratica dappertutto persino nelle case private d'accordo cosa ha fatto San Gaetano San Gaetano è stato è nato a Tiene vabbè vicino a Vicenza è stato il segretario di Papa Giulio II il Papa che ha ordinato Michelangelo di dipingere la Cappella Sistina ha visto la grande decadenza della chiesa romana di quel periodo la grande corruzione che c'era in quel periodo a un certo punto si è ritirato sui monti Teatini che sono i due monti sopra Chieti con un suo confratello un vescovo e ha voluto fondare un nuovo ordine l'ordine dei frati dei l'ordine non so se dei frati minori comunque dei teati detti appunto i Teatini da qua comincia a riformare la chiesa partendo dagli ultimi va a Napoli da tutto quello che ha in beneficenza a tra le altre cose fa tutto il percorso per diventare sacerdote poi non vuole farlo perché non si sente degno non vuole celebrare la sua prima messa quando la fa il giorno di Natale a Santa Maria Maggiore nella cappella del preseppio la tradizione vuole che gli appare mentre consacra l'ostia gli compare la Madonna con in braccio un bambino raccomandandosi di diventare il diffusore del preseppio questo è un po' gli episodi di San Gaetano che muore in miseria a Napoli ed è seppellito proprio nella chiesa di San Gaetano in fondo a San Gregorio Ormeno se voi la percorrete in fondo c'è piazzetta a San Gaetano a destra c'è una chiesina è sepolto lì arriviamo al concilio di Trento e praticamente siamo coevi a San Gaetano concilio di Trento emana cioè tante cose tra le altre cose senz'altro importanti sono riconosce il nuovo ordine che è l'ordine dei gesuiti primo e secondo riconosce l'importanza del preseppio come mezzo di apostolato i gesuiti vengono presi e portati in due posti fondamentali in America del Sud America Latina per la nuova evangelizzazione e nella mitte l'Europa per contrastare i riformati ecco la contro riforma i riformati vengono avanti con l'albero di Natale luterani calvinisti protestanti allora cosa fanno mando dei teologi puri i gesuiti a differenza dei francescani diffondono il Vangelo a livello colto a livello intellettuale i francescani diffondono alla massa in modo molto più semplice a questo punto vengono messi in questa zona dobbiamo contrastarle in che modo teologicamente rispondendo ai luterani tono su tono e poi cosa fanno fanno costruire la barriera di tutti i sacri monti sulle Alpi non puoi andare in terra santa chiedere indulgenza fai la penitenza fai un percorso legato a tutte le cappelle ecco il motivo di queste cappelle come se sacro monte come se io in questo momento fossi nella terra santa mi comunico mi confesso e ho l'indulgenza una barriera spirituale sono parecchi sono più di undici sacri monti presenti in quella zona ecco qua questo è di Varallo il primo in alto sinistra quella di destra invece quello di Varese arriviamo nel 700 il grande momento tra Napoli Roma e Genova nella diffusione a livello artistico del preseppio perché le grandi famiglie domigliari addirittura arriviamo ai re diventano grandi presepisti o comunque innamorati del preseppio e il preseppio diventa motivo di potenza se voi andate a San Gimignano in Toscana noterete che le torri le torri chi faceva la torre più alta era la famiglia più potente la famiglia più ricca a Napoli in quel periodo chi aveva il preseppio più bello era simbolo di famiglia importante di ricca di famiglia stimata e anche temuta ecco allora che si incaricano i migliori artisti del momento dal San Martino dal Goli dal Vaccaro dal Mosca e dicendo tutti i migliori vengono chiamati i migliori orafi i migliori sarti questo è il preseppio di Giuseppe San Martino che ha conservato a Monaco il Bayerish National Museum qui vedete alcuni esempi di fattura di preseppi napoletani quello di sinistra è genovese amaragliano e poi testine di preseppi napoletani tra il 700 e l'800 il preseppio ha nel periodo illuministico e razionale il periodo peggiore della sua storia perché viene disprezzato pensate cosa dice questa frase questa editto di Narbona si dà il nome di preseppio a delle rappresentazioni tridimensionali della natività di Cristo dell'adorazione di magi dei pastori che vengono costruiti sia sugli altari delle chiese che in case private io non comprendo perché i nostri sacerdoti istruiti dai canoni della chiesa hanno dimenticato che il canone 39 del concilio di Darbona tenutosi nel 1609 proibisce di fare nei luoghi sacri delle indecenze è vero che questo non sono altro che delle figure di creta di legno o cera che vengono elegantemente rivestite ma codesti divertimenti debbono lasciarsi ai fanciulli noi abbiamo prese queste buffonate dagli italiani e dagli spagnoli tutto ciò diverte il popolo ed un privato che ha fatto a casa propria un preseppio è certo davvero ogni giorno una quantità sballorditiva di donne che vanno a godersi di questo spettacolo un altro a queste rappresentazioni siamo in Germania appartengono i cosiddetti preseppi per mezzo dei quali ci vengono resi evidenti chiari e precisi gli avvenimenti della vita di nostro signore essendo gli abitanti delle province di Franconia progrediti ed essendo gli istituti di educazione arrivati a tal punto di progresso che non c'è più bisogno di tali ripieghi per l'istruzione e l'insegnamento e poiché i presepi per lo più sono stati aboliti e quelli ancora esistenti non servono ad altro che a far divertire i bambini considerato tutto ciò si ordina agli impiegati e dai parroci di non permettere più nei loro rispettivi distretti o parrocchie e dove ancora era in uso l'erezione di presepi arriviamo nel periodo dell'ottocento pieno dell'ottocento romanticismo quindi il ritorno a tutto quello che è la poesia l'amore la bellezza delle cose quindi tra le altre cose tra le tradizioni i costumi anche il rifiorire del presepio però sono passati in questo secolo molti presepi la maggior parte dei presepi sono andati distrutti soprattutto quelli storici per l'incuria per l'abbandono per l'abbandono gli animali stessi i roditori pensati i presepi in tessuto sono stati tutti mangiati dai topi dai redottori vi dicendo però da questo punto ritorna il presepio ogni materiale viene usato il legno il sughero l'argilla il marmolo l'alabastro eccetera ogni ceto ormai acquista e realizza presepio adatti ad ogni condizione e gusto e qui vedete alcuni presepi storici siamo a Modica nella chiesa di Santa Maria di Betlemme un presepio del buon Giovanni Vaccaro quello di sinistra è un presepio in cera del 1700 conservato il museo di Ocesano di Beressanone quello di destra è il presepio di Francesco Nondonio dipinto su tavola conservato nella chiesa di San Marco a Milano cominciano a nascere i musei musei in Italia musei in Germania nascono le associazioni anche in tempo di guerra l'essenza l'attaccamento all'essenza della vita non viene dimenticata con la realizzazione del presepio natale questo è il presepio del campo di concentramento di Winzendorf in Germania adesso è musealizzato nel museo della Basilica di Sant'Ambrogio a Milano è particolare se lo guardate sembra brutto in realtà questo presepio è stato fatto dagli ufficiali prigionieri nella guerra nel 44 ricavato tagliando le gambe la parte terminale dei letti con dei coltellini da scout sono stati modellati i visi i vestiti sono delle mostrine dei soldati dei pigiami tutto quello che era il materiale che potevano recuperare il Gesù Bambino è fatto con un fazzoletto di seta i doni dei magi sono dei braccialetti che probabilmente è il regalo delle moglie o fidanzate di questi ufficiali e su questo davanti a questo presepio nel 1944 è stata celebrata una messa davanti al tricolore noterete che manca il bue il bue volutamente non l'hanno portato terminato la guerra l'ha lasciato nel campo di inconcentramento a memoria di chi purtroppo non è più rientrato quindi dicevo poi all'inizio del secolo nascono tutte le associazioni la prima viene fatta a Barcellona poi in Austria noi arriviamo come Italia solo negli anni 50 nel 53 l'associazione ha l'obiettivo di raggruppare appassionati del presepio di questa tradizione in tutta Italia di collarli noi ci siamo regolamentati con delle sezioni siamo qui in questo caso probabilmente se non ci fosse stata l'associazione io non conoscevo Michele non conoscevo nessuno di voi perché abitavo a mille chilometri di distanza voi avevate la passione per il presepio e io la passione per il presepio ma non potevamo incontrarci quindi discorso di associazione è importantissimo perché ci dà la possibilità oltre che di fare corsi di migliorarsi tecnicamente ma di alimentare la passione comune di questo straordinario diciamo rappresentazione che si fa questo è un presepio realizzato da Antonio ed è allestito presso il museo di Dorbin vero? termino questa diciamo narrazione un po' della storia così almeno avete mentalmente chiaro spero come si è sviluppato il presepio che non è una cosa facile con delle parole di Giovanni Paolo II dette nella messa di Natale nel 2001 come tutti i pastori anche noi in questa notte straordinaria non possiamo non provare il desiderio di comunicare agli altri la gioia dell'incontro con questo bambino avvolto in fasce non possiamo fermarci estasiati a contemplare il Messia che giace nel presepio dimenticando l'impegno di rendergli testimonianza dobbiamo riprendere in fretta il nostro cammino dobbiamo ripartire gioiosi del presepio di Betlemme per riferire in ogni luogo il prodigio di cui siamo stati testimoni io ho finito forse Michele vuol dire qualcosa per domani che l'è domani che cosa si allora domani inizio le lezioni alle ore 8 domani veramente alle 8 si inizia perché abbiamo già preparato tutto stesso orario per il pranzo stesso orario per la ripresa questo è rivolto a noi infatti va bene allora domani grazie grazie a tutti